ciao buongiorno ragazzi allora per i curiosi il mio primo rig 6g più ovvero queste qua e poi ne facciamo un secondo dedicato specialmente a kia e alle ai vari token doppioni e poi il terzo con qualche altra gpu smash e poi vediamo un po insomma da farsi tanto è un mondo in continua evoluzione e quindi niente buona domenica voi io torno a lavorare mortacci vostra ciao